Parliamo di eccellenza sanitaria, infatti vi raccontiamo di un caso che sta ribalzando sulle principali testate nazionali al centro dell'interesse mediatico il delicato intervento di chirurgia oftalmologica svoltasi a Napoli per aiutare una giovane donna kurda grazie al pronto intervento dell'equip del professore Diego Strianese. Un'operazione questa molto complessa che ha trovato nell'azienda ospedaliera universitaria Federico II un'assoluta eccellenza nel settore. Ci spiega tutto naturalmente il nostro ospite e protagonista di questa vicenda. Il piacere di avere qui con noi il professore Diego Strianese responsabile dell'unità operativa semplice di patologia degli annessi oculari oculoplastica. Salve, grazie di essere qui con noi, ben trovato professore. Buongiorno a tutti. Allora partiamo proprio da questa vicenda, dal principio la donna in questione di cui parlavo in apertura operata si chiama Nora, è 27 anni ed è arrivata in Italia grazie soprattutto ad una catena di solidarietà. La ragazza giunge a Napoli perché è affetta da un tumore molto grave definito linfoproliferativo e quindi da qui nasce questa catena di aiuti dal territorio del Kurdistan fino a raggiungere la nostra città laddove ha trovato la grande solidarietà di Napoli. Sì, è un'equipe di grande eccellenza guidata da lei professore. Sì, dopo magari diciamo qualche dettaglio in più su quello che è il nostro operato sul territorio, non solo appunto a livello internazionale ma dei servizi che eventualmente offriamo a livello campano e soprattutto anche sul territorio nazionale. Per Nora io sono stato contattato qualche mese fa da questa organizzazione umanitaria la cui presidentessa la dottoressa Pinto appunto aveva l'urgenza di poter offrire un percorso terapeutico a questa ragazza sfortunata che è in un territorio come sappiamo tutti quanti il Kurdistan è diviso tra la Siria, l'Iran, l'Iraq e la Turchia. E' quindi un territorio diciamo di mezzo, in una culla di cultura e di storia che purtroppo diciamo ha delle vicende piuttosto complicate da moltissimi secoli, non anni. La ragazza quindi lì non poteva essere curata, l'organizzazione è stata contattata affinché in Italia fosse trovato un centro, in Italia e in Europa in genere, un centro che potesse prendersene cura. Tramite il Ministero degli Esteri e tramite alcuni contatti che l'organizzazione ha nella medicina in genere, perché è un'organizzazione che si occupa di questi malati del Kurdistan da più di 10 anni, 15 anni in verità, ha anche avviato dei processi di formazione dei medici locali in cui noi molto probabilmente da ottobre saremo coinvolti. E quindi viene contattato e viene individuato il nostro centro di Napoli che fortunatamente è uno dei centri che riconosce una migrazione sanitaria inversa al solito trend che conosciamo. Noi conosciamo tutti quanti una migrazione sanitaria di solito dal sud al nord. Quando si ha una malattia tutti quanti dicono perché non vai a Milano, perché non vai a Torino. Questo invece per quel che riguarda il nostro centro di patologia di oculoplastico o di annissi oculari e dell'orbita avviene esattamente l'inverso già da molti anni. Chiaramente non tutti conoscono e l'organizzazione ha avuto i canali giusti per poter poi trasferire Nura presso il centro di oculoplastica del secondo poliollinico dell'azienda federiciana ospedaliera. Non avete capito che era arrivato il momento di intervenire per Nura, quindi non bisognava più rimandare ogni tipo di sostegno. Esatto, abbiamo fatto una corsa contro il tempo e di questo devo dire veramente non per piageria ma devo ringraziare il dottore Longo, il direttore generale, la regione Campania sono stati molto molto vicini e sono stati di grande supporto nel risolvere tutti i problemi burocratici. Perché bisogna sapere che quando ci sono questi trasferimenti, anche se sono umanitari e quindi c'è chiaramente il risvolto e una maggiore sensibilità nel voler risolvere i problemi, gli ostacoli burocratici e amministrativi sono notevoli. Loro sono stati in questo super veloci perché anno prima mi hanno chiesto se effettivamente ci fosse un'urgenza. Io ho avuto la possibilità di vedere già delle indagini che aveva eseguito Nura nel suo territorio e quindi abbiamo valutato che dovesse essere operata quanto prima. E in questo ci sono state le istituzioni molto vicine per poter consentire a Nura di vino. Come ha reagito Nura a questa grande ondata di accoglienza e anche di efficienza? Devo dire che in questo mi ha aiutato la mia esperienza. Io sono stato cinque anni anche tramite un progetto della Johns Hopkins University Medio Oriente e quindi questo mi ha dato grande possibilità di conoscere le culture diverse dalla nostra. Quella dei kurdi sicuramente che sono a prevalenza musulmani è sicuramente una cultura più vicina a quella con cui ho avuto a che fare per cinque anni. E quindi so che quando una donna giovane accompagnata dalla mamma ti abbraccia per loro nella loro cultura è molto complicato. Quella che vediamo l'immagine è chiaramente di un'altra paziente di tantissimo tempo fa proprio per parlare della patologia orbitaria. Quando ti abbraccia vuol dire che ti esprime il massimo della gratitudine e il massimo della felicità che possono esprimere. Questa professore è sicuramente una tipologia di intervento che richiede strumentazioni competente e competenze molto specifiche e delicate. A dimostrazione anche del fatto che ci ritroviamo dinanzi a una vera e propria eccellenza internazionale quando parliamo dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II. Perché la patologia di cui Nura naturalmente necessitava richiedeva altrettanta competenza, professionalità come quella sua e quella della sua equip. Sì, nell'immagine che vedete, penso che degli spettatori la possano vedere, è l'equip con il direttore che è il professore Ciro Costagliola, altro grande player in questa vicenda che ha dato il suo supporto e devo ringraziare appunto l'equip. Come giustamente ha detto lei richiede grande competenza. Tutte le persone coinvolte che vedete in questa immagine, ce ne sono anche altre in un'altra immagine, quindi anche tutto il personale parasanitario, da anni sono abituati ad avere a che fare con questi pazienti particolarmente complicati. Il training è molto lungo e noi appunto, io sono potuto andare, grazie anche al supporto dell'università all'estero, per poter migliorare le competenze in questo campo. E noi nello specifico spieghiamo un po' di che cosa ci occupiamo. Avevo appunto portato qualche immagine proprio per far vedere come la nostra zona di interesse è tutto quello che avviene all'intorno dell'occhio. Tutte le malattie che possono colpire le strutture che sono intorno all'occhio, possono da malattie infiammatorie, tumorali, malformative, traumatiche, necessitano una competenza particolare. Perché ci troviamo di fronte al fatto che non dobbiamo risolvere solo il problema di per sé, quindi magari levare il tumore, ma dobbiamo stare attenti a creare quanti meno danni possibile all'occhio e alla funzione visiva che sappiamo tutti essere sacrosanta per una buona qualità della vita quotidiana. E questo è il punto fondamentale, sapere come affrontare questo tipo di problemi. Naturalmente quando parliamo di questa patologia, ricordiamo anche tra gli spettatori, professore, che la competenza, l'aggiornamento, la professionalità diventano le assi direttrici, no? Per una tipologia di operazione che tra l'altro pochi in Italia e in Europa possono eseguire. E questo diventa ancora il tratto maggiormente distintivo. Tutto questo sta suscitando che cosa? Adesso un vero e proprio passaparola virtuoso che sta mettendo in circolo altri atti di solidarietà. Sì. Naturalmente sempre col sossegno della Regione Campani, Ministero degli Affari e della Cooperazione Internazionale per riuscire ad ospitare al meglio tutte queste persone che comunque si trovano già provenienti da terre segnate, quindi c'è già un vissuto molto segnato, doloroso, provato. Esattamente. Noi abbiamo anche altre richieste, ci sono infatti subito dopo arrivate già altre richieste di assistenza, esattamente. Poi devo dire che sono rimasto, il messaggio è arrivato perché sono state delle richieste molto specifiche, cioè esattamente di quello di cui noi ci occupiamo. E l'eccellenza, devo dire, si vede anche dal fatto che abbiamo in questo momento dei ragazzi che vengono dall'estero per imparare da noi. Quindi noi siamo andati prima all'estero, in questo momento abbiamo una ragazza giordana, un altro ragazzo medico, verrà a perfezionarsi per un anno da Israele e da poco è andata via una ragazza dalla Polonia e abbiamo molte richieste, non solo di medici italiani dal nord che stanno venendo a perfezionarsi dal sud, ma anche dall'estero. Questi sono i tratti positivi di quando si parla della nostra sanità, della nostra regione di Campania, perché tante sono le criticità di cui raccontiamo purtroppo durante il corso delle nostre dirette, ma ci piace anche raccontare gli aspetti positivi e quindi tratti di eccellenza della nostra sanità, ma soprattutto in questo caso dell'azienda ospedaliera universitaria Federico II, della sua equip guidata da lei. Gli sviluppi della chirurgia mininvasiva nell'ambito della oftalmologia. Oggi sono all'ordine del giorno, professore, interventi incredibili che un decennio fa sembrava davvero quasi impossibile poter realizzare. Ed oggi invece? Bravissima, esatto. Mi ha accolto e ha fatto la domanda più importante, diciamo, dal punto di vista sia della comunicazione scientifica sia per i telespettatori. Noi quando dovevamo risolvere tantissimi anni fa, e io ho vissuto tutta l'epoca di cambiamento, di transizione verso una chirurgia che era molto invasiva in tempi passati e che addirittura era impossibile. E adesso invece usando nuove tecnologie e nuove procedure bastano delle piccole incisioni o addirittura quella che noi chiamiamo la chirurgia sutureless, cioè senza e anche punti di sutura. E risolviamo problemi come per esempio a tutti voi sarà capitato di vedere i pazienti con gli occhi molto all'infuori, quella che è il softalm, la propitosi, abbiamo visto qualche immagine proiettata. E in quel caso, tanti anni fa bisognava risolvere un classico caso di oftalmopatia di stiroidea, un'altra malattia di cui siamo centro di riferimento veramente sul territorio nazionale. E questi pazienti che vedono cambiare la loro vita in maniera drammatica, non solo perché il loro aspetto cambia, ma anche perché vedono doppio e quindi non possono più svolgere le attività quotidiane, adesso noi possiamo risolvere e far rientrare gli occhi di questi pazienti migliorando chiaramente la loro qualità della vita senza alcuna sutura, senza alcuna incisione esterna. Quali patologie, professore, possiamo ricordare al nostro pubblico che la vedono protagonista? Esatto. L'esecuzione degli interventi di chirurgia mininvasiva naturalmente. Esattamente, l'oftalmopatia di stiroidea come abbiamo visto, tutti i tumori che sono nella regione intorno all'occhio e tutte le patologie che riguardano per esempio le vie di drenaggio lacrimali, le palpebre, abbiamo pazienti, ho fatto anche una fotografia di un bambino che ha le palpebre che cadono, la tosi palpebrale, per esempio come in questo caso le malformazioni congenite, anche adesso possono essere risolte in maniera brillante con interventi molto meno invasivi. Di chirurgia mininvasiva come ricordava lei. Senta, guardando al futuro, a proposito di frontiere, perché di frontiere abbiamo parlato, quali potranno essere le nuove frontiere in quest'ambito di ricerca ma anche di chirurgia? Allora, le nuove frontiere, e questo mi piace ricordarlo, che si potranno percorrere proprio a Federico II, nell'azienda ospedaliera Federico II, perché c'è un'ottima collaborazione e delle professionalità elevatissime anche nei altri dipartimenti con cui lavoriamo in equip e quindi mi piace ricordare appunto il dipartimento del professore Califano di Maxillofacciale, il dipartimento del professor Capobianco di Neurochirurgia e sono realtà con cui si può collaborare, si collabora e assolutamente hanno sistemi di navigazione, di endoscopia che permettono... Un totale sinergia, un'ottica di multidisciplinarietà. Esatto, esatto, veramente importante. Grazie, grazie di essere stato qui con noi e auguri a Nora a questo punto e a tutti i pazienti naturalmente che attraverso lei e la sua echipo potranno effettivamente vedere risolte le proprie patologie, perché è importante, davvero importantissimo. Complimenti per l'ottimo lavoro che svolgete, per l'eccellenza che stiamo raccontando al nostro pubblico di Mattina Live. Grazie professore. Speriamo di rivederci per oltre i futuri racconti positivi. Esatto, grazie professore Diego Strianese, responsabile dell'unità operativa semplice di patologia degli annesi oculari oculoplastica, oggi qui con noi. Grazie davvero, pubblicità. Grazie.